La verità è che ha fatto un qualifying rischioso ma è uscito bene, pensavo che era possibile andare con il Sleek per questo ho andato ma ho arrivato alla curva 7-8 e ho detto è un qualifying practice, non è una gara, qua solo giocavamo di una caduta e dopo rientrato è uscito un'altra volta, non mi è uscito il giro buono ma peccato perché dopo il practice che aveva fatto pensavo un po' di più che poteva fare un po' di più il qualifying practice ma onestamente mi è andato bene questo risultato così dai, ritorni un po' alla realtà e lavori più per domani, onestamente aspettiamo che sia asciuto, asciuto o bagnato perché quando è così così, mezzo mezzo le gomme sono abbastanza morbide, fai fatica già dopo 5-6 giri fai fatica con la gomma davanti ma bene il passo all'FP4 è stato buono, così contento ma vediamo, positivo del sexto posto che parti per il posto pulito della pista